quanti progetti sono sono così integrati sono numerosi sono numerosi e poi puoi vedere d'inizio come qualcosa che ricordo da bambino quando ho fatto un maser il maser è come un laser un micro la m sta per radiazione microonde una missione di simulazione microonde ma ora abbiamo veramente armi come questa e la marina ha giusto realizzato un grosso laser argon che abbatte i missili dalle loro navi quindi si può vedere l'inizio diverse volte cos'è quello che è un laser giusto se non posso parlare il momento ma questo è è veramente triste ma sai quando la gente vede di orbe nel cielo se girano attorno volano veloci gli ufo sì gli ufo sono piloti della marina sono piloti della marina che volano sugli f18 piloti piloti della marina ed uno loro è stato qui un paio di settimane fa ryan graves è un pilota della marina che ha volato sulla costa della carolina del nord e hanno avuto l'aggiornamento di loro rada sugli f18 all'improvviso hanno visto queste cose sfrecciare attorno i loro radar non dire quello che sto dicendo e vedi se lo sanno ok ok quindi quello che facciamo agire con le loro forze per essere sicuri che i nostri inganni funzionino col nemico e quelle sono armi energia diretta dove andiamo a far intersecare raggi o raggi focali dentro l'atmosfera e notate che sono sempre nell'atmosfera per innescare gli elettroni orbitali dell'ossigeno e dell'azoto e nell'atmosfera che causano un bagliore a causa della ionizzazione la ionizzazione mostra sul radar che è come un puntatore laser che insegue gli aerei esattamente la descrizione per descrivere queste cose in movimento come un puntatore laser certo e lo facciamo su tre spazi e possiamo farlo sembrare uno spazio tridimensionale possiamo farlo apparire come un'intera flotta che sgancia bombe e diciamo in europa e poi succede che spariscono e tutti i loro ari si alzano in aria e noi li attacchiamo nell'altra direzione presumendo che si stiamo attaccando e chi fa questo hai detto la marina qualcuno un gruppo delizioso un gruppo sai e lo sa com'è fatto lo so per fatto sì sì comunque non dirlo i tuoi spettatori un gruppo all'interno del governo degli usa certo ma lasciamolo così sì e questo è qualcosa che si può vedere ad occhio nudo o qualcosa che è splendido è visibile e puoi vederlo ad occhio nudo e lascia una traccia sul radar quindi è perfetto come inganno e lascia una traccia sul radar quindi è perfetto come inganno